Ciao, mi chiamo Omar e ho 24 anni. Sono spagnola ma abito a Roma da 8 settimane. Dopo aver terminato gli studi, ho deciso di venire qui perché Roma è una città bellissima e perché voglio imparare la lingua italiana. Per questo sono una studentessa di CPA Roma. Adesso sono nel mio posto preferito di Roma, il parco Doria Villa Panfili. All'inizio era solo un terreno agricolo ma nel 1630 la famiglia Panfili acquistò il terreno e costruì una casa di campagna. Attualmente è un parco di 164 etari. È uno dei più grandi e bello. È sempre pieno di persone che camminano e praticano le sport.